Si parla di bollette pazze in questa conferenza stampo, voi volete parlare di un problema che è stato ravvisato da molti cittadini e parlarne come Associazione Codici. Come voi sapete l'Associazione Codici si occupa della tutela e della difesa dei diritti del cittadino, dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Però in questo particolare momento di pandemia abbiamo ritenuto opportuno volgere le nostre azioni fondamentali su due settori, il settore dell'antiusura e del sovrindebitamento e il settore delle truffe o le tentate truffe a discapito degli utenti cittadini che molte volte si vedono truffare dai gestori falsi o findi che gestiscono i servizi pubblici essenziali come l'acqua, la luce, il gas e la terapia. Con questo sportello avete lavorato tanto e state lavorando tanto in questi ultimi mesi. Quali sono le problematiche che vi hanno sottoposto maggiormente i cittadini? L'Associazione di Consumatori Codici presenta oggi un dossier sulle bollette pazze e sui disservizi che gli utenti della provincia di Pescara hanno avuto negli ultimi sei mesi, quindi nel periodo che va da dicembre a maggio in merito alle utenze, quindi luce, gas, acqua e telefonia. Abbiamo gestito circa 200 pratiche di conciliazione e abbiamo ottenuto anche risultati importanti perché siamo riusciti a far annullare circa 100.000 euro di fatture sbagliate e a far ottenere indennizi, quindi ristori economici, per circa 50.000 euro. Le principali problematiche che abbiamo riscontrato sono state l'attivazione di servizi e contratti non richiesti, l'addebito di costi non dovuti, la perdita della numerazione, l'interruzione dei servizi e fatture di conguaglio con periodi ormai prescritti. Ma l'associazione Codici non si occupa solo di utenze, quindi di luce, gas, acqua e telefonia, ma si occupa anche di una tutela del cittadino a 360 gradi, perché noi ci occupiamo di sanità sociale, banche, assicurazioni, frodi alimentari, garanzie di prodotti, tuteliamo il cittadino a 360 gradi.